Una crostata con crema al cioccolato e amaretti, buonissima e anche facile da fare. Preparate la pasta frolla unendo alla farina gli amaretti di taglia Vicenzi polverizzati. Aggiungete il burro, lo zucchero e iniziate a impastare, poi aggiungete anche l'uovo. Lavorate velocemente la pasta, formate un panetto e dopo averlo avvolto nella pellicola lo fate raffreddare in frigo per circa un'ora. Preparate la crema sbattendo le uova con lo zucchero, unite gli amidi, il latte aromatizzato con la vaniglia, poi cuocete la crema, dopodiché aggiungete i due cioccolati e fate raffreddare. Stendete due terzi della pasta frolla e rivestite lo stampo imburrato infarinato, bucate il fondo, versate la crema e la pareggiate. Bagnate nel liquore gli amaretti e inseriteli nella crema. Gli amaretti Vicenzi sono perfetti per preparare i dolci, croccanti, gustosi ed al sacco così particolare che sono ottimi da mangiare anche da soli. Ricoprite poi la crostata con la pasta frolla rimasta, sigillate bene i bordi e togliete l'eccesso. Infornate a 175 gradi per 30 minuti e proseguite la cottura per altri 10 minuti con calore solo dal basso. Decorate la crostata con un poco di zucchero a velo, servite in tavola e vedrete che è successo.